L'Italia, con l'attivazione dello screening neonatale esteso, ha subito una grande trasformazione in fatto di prevenzione in epoca neonatale. Quello che prima era un test basato sull'identificazione precoce alla nascita di sole tre malattie, dopo l'approvazione della legge 167 nel 2016, detta anche legge Taverna, ha dato il via a un nuovo modo di pensare alla prevenzione alla nascita, non solo per l'incremento del numero delle malattie, ora in qualche regione arriviamo a oltre 50 malattie metaboliche ereditarie scrinate, ma soprattutto per lo studio e per la ricerca sulle malattie scrinate e sullo sviluppo di terapie. Sono malattie severe quelle inserite nel pannello ufficiale di screening che, se non vengono riconosciuti in tempo, provocano disabilità al bambino, se non anche la morte in certi casi. Malattie trattabili soprattutto con dieta salvavita e integratori aminoacidici che riescono a compensare la patologia. Questi neonati possono avere un futuro quasi del tutto normale, cosa che prima dello screening molto spesso non era possibile. Un grande diritto di salute quindi per il neonato, ma c'è un ma. Se da una parte, grazie all'applicazione della legge 167 del 2016, abbiamo raggiunto questo grande obiettivo, dall'altra però si sono create delle disparità di trattamento dei neonati che nascono in regioni diverse, regioni virtuose che, per fortuna, hanno già aggiornato i loro programmi regionali di screening aggiungendo nuove malattie screenabili e per le quali esiste già una terapia, come le malattie lisosomiali, le immunodeficienze e alcune neuromuscolari, che paradossalmente hanno tra l'altro una frequenza molto superiore alle patologie attualmente inserite nel pannello ufficiale. Questo perché non è stata rispettata la legge 167 e gli emendamenti alla stessa che il Parlamento ha approvato nel frattempo. A sei anni dall'approvazione della legge non possiamo quindi accettare che si siano create queste disparità di trattamento e che ogni regione debba decidere a modo suo, perché tutti i neonati che nascono in Italia devono avere lo stesso diritto di salute, lo stesso diritto alla vita.